e dunque pontedera milan futuro 1 a 1 tredicesima giornata del girone b di serie c il milan partiva come terzo ultimo a 9 punti il pontedera aveva due punti in più prima della partita è rimasto invariato solo con adesso il milan 10 pontedera 12 e un milan strano questo milan futuro perché dopo una vittoria convincente in quelle di renato curi di perugia 2 a 0 poi arrivato questa sconfitta davvero inaspettata in casa con il pineto che non aveva fatto praticamente niente neanche ti importa ha vinto 2 a 0 praticamente e il problema di questo milan poi sono sempre stati fino alla giornata di oggi i numero record di cartellini rossi addirittura 5 di cui 2 li aveva ricevuti cubis a parte altri cartellini gialli oggi fortunatamente l'unico a ricevelo è stato alex g menez un milan che ci si aspettava magari una reazione diversa una partita un po un po pallosa diciamo è un po il un film già visto da inizio stagione con questo milan futuro una squadra contratta ancora dove non c'è una squadra titolare una squadra base sono diversi i giocatori che si muovono tra la prima una squadra la primavera o in su o in giù e una squadra ancora alla ricerca della continuità che non è riuscito a trovare e ovviamente tutti gli occhi sono sempre indirizzati durante queste partite su camarda su zeroli su bartesaghi piuttosto che oggi giocava dall'inizio anche silvano vos che non mi ha sinceramente non rimandato alla prossima volta per essere buoni il milan iniziava con ravviare in porta ad alessio zucic bartesaghi e chimene sulla linea difesa ma la spina davanti a loro e dietro l'unica punta camarda si muovevano appunto fall sandri zeroli e vos in panchina nava ozzic longo liberali dotum magni sia omoregbe e turco un milan che sinceramente inizia male come tante volte ha cominciato fino adesso e però poi a un certo punto cerca di mettere su un binario che può sempre da un punto di vista sfasato mi va a dire una squadra che a volte sembra che non ha né capo né coda a me piace essere chiaro e onesto in questo senso cerca di fare la partita ma il grave problema è che fa sempre fatica ad arrivare in porta a concludere e quindi un ponte nera fondamentalmente non è che si sia spaventato da un milan furioso da un fast and furious assolutamente no e infatti al 27esimo arriva il gol proprio dei toscani su uno svarione di bartesaghi e quindi passano in vantaggio 1 a 0 con il gol che aspetta un attimo che vi dico aspetta com'è che si chiamava questo qua manucci manucci se non sbaglio si manucci vabbè vabbè fortunatamente il milan non si è fatto prendere dal diciamo dallo sbandamento e ximenez che ormai lo dico da tempo deve fare il salto in prima squadra da subito e anche se ha giocato oggi a sinistra lui può giocare anche a destra ma al posto di calabria emerson metti subito kimenez a sinistra teo e buone via l'ho detto anche nel video di oggi e infatti arriva un gol allucinante un grandissimo gol andando anche poi vicino al raddoppio ha tirato lina castagna di sinistro sotto l'incrocio la pazzesco pazzesco rossoneri poi nell'ultima fase il primo tempo cercano di tenere il possesso palla ma non riesce a sfondare proprio per i problemi ormai che si stanno incancrenendo di questa squadra che è come se dovesse più trovare diciamo i giocatori la loro posizione in campo che non far fluire scorrere il gioco un da nel secondo tempo diciamo che c'è da sottolineare soprattutto la parata sul calcio di rigore di rever che para al 67esimo rigore di janesi distendendosi proprio sul suo lato sinistro e salvando una partita che poteva davvero diventare l'ennesima sconfitta un milan che se andiamo a vedere nei 90 minuti ha giocato meglio probabilmente il primo tempo ma soprattutto nell'ultima fase del primo tempo nella ripresa praticamente il nulla cioè il nulla più totale e tra l'altro non è che abbiamo trovato un ponte d'era che avesse alzato i ritmi è stata una parte una partita davvero noiosa ragazzi e due buone parate quella appunto detto su rigore riviera e poi un'altra e c'è questo grave grave problema di questo milan futuro dell'attacco l'attacco è un grave grave problema questa squadra non riesce a creare palle gol decisive ci devono essere le invenzioni del giocatore di classe tra virgolette sicuramente di categoria superiore rispetto alla cicchimenez per poterle sbloccare o per poter agguantare un pareggio ma siamo di gran lunga ancora da una squadra che possa essere ritenuta squadra sapevamo anche che questo campionato di serie c non è acqua di rose lo sapevamo fin dall'inizio però ci si aspettava sicuramente qualcos'altro da questo mia in bonera è vero anche che è una squadra che fa fatica a mettere ogni settimana 11 giocatori gli stessi giocatori per via anche delle chiamate di prima squadra da una parte adesso c'è anche la youth league della primavera dall'altra e quindi c'è secondo me è proprio come una stazione a me sembra la stazione del treno sto milan futuro dove ci sono passeggeri che arrivano vanno vengono e poi per concludere scherzando con mio figlio durante la partita dicevamo ma perché non facciamo un cambio tra fall e leao no ma andiamo fall in prima squadra e leao nel milan futuro tanto i capelli il colore sono lo stesso fall nel milan futuro al 17 che era di leao fino allo scorso anno proviamo a dargli il 17 a leao un'altra volta nel milan futuro che chissà potrebbe essere anche un bagno di umiltà visto che anche nel milan futuro ci ha giocato balloture e abbiamo visto anche i risultati le altre settimane che cosa aveva combinato detto questo niente pontedera milan futuro 1 a 1 e anche in questo caso aspettiamo altri risultati da parte di questa squadra che mi auguro prima o poi realmente trovi una quadra vi auguro davvero una buona serata qui dal canale tribù rossonera mi raccomando non disegniamo i like iscrizioni condivisione ovunque comunque e noi ci ritroviamo domani per un nuovo appuntamento dalla mattina o chi lo sa un bacio alle amiche un forte braccio a tutti gli amici e sempre forza milan ovunque comunque ciao